Io ho un ringraziamento, ancora lo vorrei fare agli ospiti, all'amico mio Davide, scrittore Siracusano che con il suo nuovo libro abbiamo il piacere di averlo qui, poi l'ultimo minuto abbiamo avuto l'occasione di io e Giovanni di portare, di fare un regalo per voi. Invitiamo sul palco adesso un momento dedicato alla cultura, ho il piacere di avere uno scrittore siciliano di Augusta, Davide Carmelo Maria Ortisi. Sì, ciao, ti do del tu, le mie madrine ti vogliono salutare, autore del libro Filosofia in pillole, Armando Editore, giusto? Allora, parlaci un po' di te. Sì, vi spiego, parliamo un po' sul libro Filosofia in pillole, potete vedere la copertina, però proprio la posso descrivere. È l'uomo di Vitruvio. L'uomo di Vitruvio è disegnato da Leonardo da Vinci, che sta all'interno di un cerchio. però in realtà sono photoshoppato, sono io nella copertina, con dei bermuda, con dei pantaloncini, in modo tale da poter rappresentare l'uomo presente proiettato al passato, che è un saggio, un pamphlet, dove comprende una miriade di citazioni, sentenze, aforismi. Visto che la platea è abbastanza meticciata, un po' persone di varietà, da bambini, anche persone un po' più in agee, e anche fra l'altro la tematica è anche musicale, ho l'aforisma apposta per la serata. Allora, da ragazzini si è come un disco a 78 giri, da adulti si è come un disco a 45 giri, da vecchi come un album da 33 giri, dove qualche volta salta il solco. Diciamo, le mie sono delle fotografie, sono delle fotografie che, non con la macchina fotografica ovviamente, ma che cerco di codificare in scrittura, quindi sono un osservatore, ciò che osservo cerco di capitarlo, di dedurre, di intuire, quindi ho un'analisi analitica e di descriverla, su tutto ciò che ci circonda. Poi un altro sugli uomini, parlo più che altro sulla formazione dell'uomo, la differenza tra la formazione dell'uomo sul mare e sulla terra. La formazione dell'uomo sul mare, il mare genera lungimiranza, profondità d'animo, permette all'uomo di affrontare e di risolvere tempestivamente le peripezie, incentivare gli scambi economici, conoscere nuove terre e amare il proprio topos. Dona coraggio ai giovani togliendolo ai vecchi, ha permesso di capire il meteo attraverso il volo dei gabbiani, il vento e le maree. Ovviamente dal mare è nata la filosofia. Formazione dell'uomo sulla terra. La terra è ricca di profumi, sapori, colori, usanze, giubili fescenini, libagioni, riboboli, luoghi comuni, tradizioni, suoni come il canto degli uccelli. Ha concepito l'uomo ad essere custode ed ammantatore della propria cultura, dove il tempo si scandisce con il tintinio ecclesiastico delle campane. Ha consentito di comprendere il meteo secondo le gocce di ruggiada, dalle foglie e il loro movimento. Ovviamente dalla terra nasce la religione. Questa è la dicotomia. ultima domanda. Progetti editoriali futuri ne hai? Progetti editoriali futuri? Ho un continuo di filosofia in pillole e poi qualcosa che riguarda la pubblicità. Saremo lieti di assaporare anche questo. Allora un applauso per Davide Carmelo Maria Ortisi. Libro filosofia in pillole Armando Editore. Grazie. Se la giuria si è ricomposta torniamo in gara. Riprendiamo con altri concorrenti.